questa demo è fatta con il computer ma la stessa modalità di lettura si può tenere con il tablet con uno smartphone in questo modo sfoglio la rivista un sommario interattivo dando due clic sul testo si ingrandisce automaticamente alle condizioni ottimali del video e posso controllare con il controller al piede ulteriormente l'ingrandimento del testo dove vedo la simbologia infografica del video dando un clic si apre il video e ho la possibilità di controllarlo stoppandolo controllo del volume e modalità a schermo intero poi ho una ricerca per parole ad esempio assistenti familiari ricerchiamo in quali pagine contenuta questa frase quindi se sarebbe pagina 2 viene evidenziato in giallo il testo e la pagina 9 ho la possibilità di condividere la rivista con i social network tutte le pagine o solo le pagine che voglio con facebook twitter eccetera eccetera e anche via mail quindi posso mandare via mail ho una pagina o tutta la rivista a chi desidero ho anche la possibilità di incollarmi in codice html in un'area del sito di un sito diciamo con tre modalità ho la possibilità di selezionare un testo e di copiarlo e incollarlo esempio in un foglio di word ho la possibilità di stamparmi o tutte le pagine della rivista o solo le pagine che desidero ho la pubblicazione intera questo è utile per potermi leggere la rivista in luoghi dove non c'è la rete tipo in aereo o in zone dove la rete arriva in modo scarso tipo in montagna in alcune zone è sempre difficoltoso collegarsi a internet ho la possibilità di inserire dei segnalibri e ho la possibilità di avere un'anteprima in miniatura di tutte le pagine della rivista buona lettura